il cielo in una stanza è quello che è riuscito ad ottenere l'artista olandese ben no smilde grazie a una macchina del fumo utilizzata per fare le nuvole l'abilità dell'artista sta nel cercare le condizioni ottimali di umidità e luce l'installazione dura pochi attimi ma è estremamente suggestiva apriamo ora la nostra lunga pagina dedicata allo spazio e a quello che il cielo ci riserverà nel 2013 partiamo da una notizia sono stati individuati due giganteschi geyser getti di energia magnetica provenienti dal centro della nostra galassia queste enormi fontane di raggi gamma erutano gas ed energia pari a un milione di volte l'energia liberata dall'esplosione di una supernova e danno quindi origine stellare ha curato per noi il prossimo servizio Caterina Leo l'universo racchiude in sé infiniti segreti e li rivela solo gradualmente al mondo della scienza l'ultima entusiasmante scoperta si deve ai ricercatori italiani un team di scienziati coordinato dall'astrofisico Ettore Carretti presso il Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization in Australia ha individuato giganteschi getti di energia provenienti dal cuore della Via Lattea le enormi fontane di raggi gamma emettono gas ed energia pari a un milione di volte l'energia liberata dall'esplosione di una supernova ad una velocità di mille chilometri al secondo se osservati dalla Terra sembrano estendersi per circa due terzi dal cielo da un orizzonte all'altro per 50.000 anni luce una distanza pari alla metà del diametro della nostra galassia l'imponenza dei getti non deve però preoccuparci emessi lungo la perpendicolare al piano galattico queste enormi emissioni non costituiscono un pericolo per la Terra e il sistema solare dopo tutto hanno origine nel cuore della nostra galassia a circa 30.000 anni luce da noi secondo i ricercatori i geyser hanno origine stellare ossia provengono da venti caldi emessi da giovani stelle o dall'esplosione di stelle giunte al termine della loro vita la scoperta è fondamentale e potrebbe aiutare a spiegare i misteri che circondano il campo magnetico della nostra galassia come si genera e cosa lo sostiene in futuro i ricercatori vorrebbero approfondire le origini dei flussi e indagare sui legami tra i loro campi magnetici e quelli della Via Lattea e anche quest'anno il cielo è pronto a regalarci straordinarie emozioni dagli asteroidi alle comete dalla danza dei pianeti alle ben note stelle cadenti approfondiamo quindi quest'anno ricco di eventi astronomici con il nostro ospite telefonico di questa sera vado a salutare il dottor Fabio Peri direttore scientifico del Planetario di Milano buonasera dottor Peri buonasera a voi allora cominciamo subito con lo stirare questo speciale calendario astronomico chiedo alla regia di mandare la prima nostra grafica con il primo evento si comincia ecco con il botto c'è subito un asteroide proprio nel mese di febbraio l'asteroide 2012 di A14 quanto è raro questo evento? questi incontri con oggetti celesti sono frequenti ma raramente così vicini questo asteroide ci passerà circa 30.000 km che è pochissimo in termini spaziali anche se lontanissimo la Terra 30.000 km è lontano quindi ci sfiorerà però è bello pensare che abbiamo degli incontri con questi oggetti meglio non averli troppo ravvicinati questo farebbe piuttosto male però finché passano a questa distanza c'è qualche speranza con un telescopietto di poterli vedere occhio nudo purtroppo non lo si vedrà passare 30.000 km è tanto per noi uomini poco perché è un decimo a distanza Terra-Luna quindi è abbastanza vicino ok per fortuna quindi escludiamo assolutamente le possibilità di impatto con il nostro pianeta sarà un solo un bello spettacolo ecco per chi possiede magari degli strumenti appropriati poi continueremo ancora meglio perché c'è il passaggio della prima cometa la seconda la vedremo tra poco ma possiamo vedere con il cartello ecco il passaggio che avverrà appunto nel mese di marzo questa cometa che forse sarà anche visibile a occhio nudo beh noi ci speriamo tantissimo perché le comete sono sempre un bello spettacolo questa cometa passerà nel punto più vicino al Sole il 10 di marzo e il momento migliore di vedere le comete è appena dopo il passaggio vicino al Sole perché è il Sole che le accende possiamo dirlo così è a colpa sua più passano vicine più l'attività si spera sia forte e più noi le vedremo dalla Terra questa passa piuttosto vicina ma nessuno sa, le comete sono davvero imprevedibili come nessuno sa della maggior parte delle comete quando arrivano uno le scopre ah una cometa nuova che bello e nessuno sa se poi questa sarà una cometa nuova molto attiva quindi con tanto gas, tante polveri quindi una bellissima coda oppure se farà poca cena insomma questo l'aspettiamo tutti e siamo lì al varco perché è uno spettacolo che tutti possono gustare non solo gli addetti ai lavori ecco dottor Peri ho una citazione per lei l'astronomo David Levy disse le comete sono come i gatti hanno la coda e fanno esattamente quello che vogliono lei è d'accordo con questa affermazione? è vero, è vero ha pienamente ragione perché compaiono, arrivano e poi faranno effetto cioè faranno qualche cosa di male no di sicuro perché invece gli antichi pensavano che portassero male proprio perché erano talmente imprevedibili ma anche i gatti i gatti demoni è sempre qualche cosa le cose che non possiamo prevedere ci fanno sempre un po' paura ormai sappiamo tutto quindi non c'è da averne paura anzi noi speriamo che faccia uno spettacolo esatto arriviamo in primavera perché ci sarà un interessante spettacolo una congiunzione tra pianeti ecco possiamo descrivere brevemente cosa accadrà proprio alla fine del mese di maggio i pianeti si muovono in cielo noi non ce ne accorgiamo più perché non abbiamo la pazienza di vederli muovere sono astri erranti quindi sembrano stelline che però si spostano e ogni tanto si incontrano queste sono le congiunzioni sembrano vicini prospetticamente ovviamente in cielo li vediamo avvicinarsi man mano incontrarsi questo che ci sarà il fine maggio il 28 maggio sarà una congiunzione abbastanza stretta tra due pianeti molto brillanti che sono venere e giove per cui sarà molto bello da vedere perché si avvicineranno non si sovrappongono la distanza sarà circa due volte la luna piena però saranno molto vicini in cielo due stelle molto brillanti vicini in cielo ai quali si aggiungerà anche il pianeta mercurio qualche giorno dopo per cui un bello spettacolo cereste ecco e arriviamo alla seconda parte dell'anno non mancheranno le stelle cadenti lo sciame meteorico delle perseidi ecco si parla del 12 di agosto circa uno spettacolo che poi si ripeterà però con un altro sciame meteorico questa volta delle leonidi nel mese di novembre esatto io poi soprattutto dico è vero che il massimo è previsto per il 12 agosto per le perseidi e tra l'altro ci sarà la luna al primo quarto quindi tramonta presto quindi abbiamo tutta la notte per osservarli ma consiglio a tutti non è una notte sola sono due o tre notti prima due o tre notti dopo lì c'è previsto il massimo ma guardatelo di più perché sennò ve le perdete e non è l'unico questo è uno sciame si chiama proprio sciami meteorici perché in quei giorni la terra attraversa le polveri di un'antica cometa ma non è l'unica in novembre ci sono questo sciame delle leonidi perché sembrano arrivare dalla costellazione del leone ed è uno degli sciami che ha dato più spettacoli alle volte tantissime cioè stiamo parlando di centinaia di migliaia di effetti di stelle cadenti all'ora quindi capite che sembra che il cielo cada giù quest'anno non è previsto un gran che anche perché c'è la luna piena che disturberà un po' per cui non daranno così spettacolo ma è sempre una bellissima cosa da vedere quindi non perdere le stelle cadenti ci sono in realtà tutto l'anno ci sono dei periodi in cui ce n'è di più oppure le condizioni sono talmente belle come in agosto per cui uno più facilmente sta lì a guardarle ecco e quasi sicuramente darà spettacolo l'ultima cometa la cometa Aison che arriverà alla fine di novembre ma sarà visibile anche per il mese di dicembre ecco cos'ha di particolare questo passaggio questa è una cometa che tutti davvero ci scommettiamo tanto perché passa particolarmente vicino al sole quindi se il sole non la distrugge perché passando così vicino i rischi ci sono che si spezzi le comete non sono cose solide sono agglomerati tipo di ghiaia e ghiaccio tenuti insieme un po' dalla gravità un po' proprio dal ghiaccio che li tiene lì per cui passando così vicino al sole come farà questa sicuramente darà spettacolo questo ce l'aspettiamo tutti addirittura ci sono previsioni che potrebbe diventare brillante come la luna piena quindi decisamente visibile però potrebbe essere anche l'ultimo suo passaggio perché se il sole la distrugge è costretta non la vedremo mai più è vero che questa cometa prima di ritornare sarebbe una cosa folle parliamo di centinaia di migliaia di anni per cui è l'unica volta che la vediamo ma noi speriamo che passi indenne e che ci dia la soddisfazione di vedere una cometa magari come la Hillbop del 97 che tutti ancora si ricordano quindi un appuntamento veramente imperdibile quello di fine anno però dottore Perino abbiamo visto eclissi nel nostro calendario ecco perché non ce ne saranno? no di eclissi ce ne sono sempre e quest'anno ce ne sono due di sole e tre di luna il guaio dell'eclissi però è essere nel posto giusto al momento giusto non sempre sono visibili le eclissi di sole esempio di quest'anno dall'Italia non saranno ovviamente visibili se uno ha tempo e voglia e soprattutto soldi può andarsi a vedere la prima che sarà in maggio però deve andare in Australia e poi ce ne sarà un'altra che sarà visibile dall'Africa quindi se uno vuole il 3 novembre c'è un eclissi totale andate in Africa ve la guardate se potete è bellissimo vedere dall'Italia no e quelle di luna eh quelle di luna ce n'è una che la seconda proprio non si riuscirà a vedere perché tramonta subito la luna e quindi non la vediamo ma il guaio è che sono eclissi di penombra per cui non entrano nel cono d'ombra della terra rimangono un po' all'esterno per cui è vero se uno sta attento vedrà il bordo di queste della luna leggermente offuscato ma potrebbe essere anche una nuvoletta che passa di lì quindi se uno non sa che c'è non se ne accorge praticamente però se per caso uno volesse vederla 25 aprile 25 maggio e 18 ottobre quindi le date le trovate poi cercate su internet le trovate sicuramente tutte non danno troppo spettacolo ecco ecco dottor Peri oltre a questi eventi senza spostare il nasolo in su brevemente perché siamo in chiusura quali altri quali altri eventi appunto ci aspettano durante l'anno sempre dal punto di vista spaziale abbiamo due esperimenti che noi speriamo di avere i risultati al più presto e quindi di essere soddisfatti uno è la sonda arrivata su Marte Curiosity sta bene stiamo testando tutti gli strumenti sembra che tutto funzioni e Curiosity dovrebbe darci finalmente una risposta se ci sono intanto molecole organiche che non vuol dire vita vuol dire le basi della vita ma noi ovviamente speriamo che magari possa chi lo sa trovare qualche traccia di batteri fossili sarebbe bellissimo sarebbe aprirebbe un nuovo capitolo della ricerca della esobiologia se non troverà niente va bene scopriremo qualcosa di più lo stesso del passato di Marte e soprattutto del suo contenuto è una sonda fantastica funziona tutto bene e ci darà risultati l'altra sono un po' di parte perché è una collaborazione italiana il satellite Planck è stato mandato su è stato ormai funziona i dati sono stati raccolti stiamo mettendo a posto i dati e soprattutto una collaborazione addirittura dell'Università di Milano quindi mi sento particolarmente di parte dicono che sono fantastici in aprile ci sarà la conferenza stampa e questi dati ci diranno come è fatto l'universo bambino ci avremo qualche cosa una foto dell'universo quando aveva appena si fa per dire 300-400 mila anni quindi davvero un universo piccolo ma dentro quell'universo c'è tutto quello che adesso l'universo è quindi scopriremo qualche segreto in più della nostra origine e questo è sempre bello grazie dottor Peri sicuramente prometto sarà attenta a questi eventi non solo riguardo i dati di curiosity di Planck ma anche riguardo a tutti gli eventi astronomici che abbiamo citato in precedenza io lo ringrazio del suo intervento Fabio Peri direttore scientifico del planetario di Milano buona serata e soprattutto buon lavoro buona serata a voi e venite a trovarmi in planetario ciao certamente grazie per tutte le altre questioni per ogni domanda mi raccomando scrivetici al nostro indirizzo di posta elettronica meteo chiocciolaclass.it torniamo ora sulla terra per parlare di previsioni meteorologiche vado subito a collegarmi con il nostro meteorologo Davide dalla Libera per augurargli che il tempo rimanga stabile e mite a causa del suo raffreddore a te Davide beh diciamo di sì almeno fino alla prima parte della prossima settimana le condizioni rimarranno molto simili a quelle di questo fine settimana quindi ancora in gran parte alta pressione sulla nostra penisola soltanto il sud Italia verrà ancora una volta l'ambito da correnti più fresche provenienti da nord est che apporteranno qualche episodio di instabilità soprattutto nella giornata di lunedì con qualche rovescio sulle zone del medio e basso adriatico poi da metà della prossima settimana le cose inizieranno a cambiare l'alta pressione inizierà a cedere leggermente e probabilmente sul finire della settimana arriverà aria più fredda che apporterà condizioni invernali su tutta la nostra penisola andiamo quindi a vedere nel dettaglio la previsione l'abbiamo già visto lunedì il tempo sarà stabile ovunque il pomeriggio qualche rovescio sul medio e basso versante adriatico martedì sostanzialmente il tempo rimane stabile ovunque le temperature ancora miti un lieve calo in pianura padana nella giornata di mercoledì ecco comparire qualche pioggia qualche debole pioggia dovuta a nuvole basse sulla Toscana e poi più tardi anche sul nord est e qualche nuvole in arrivo anche sulla Sardegna infine la tendenza per giovedì vedete qualche nuvole in più un po' su tutta la nostra penisola e soprattutto le temperature cominceranno a calare è arrivato il momento di uno spazio artistico ovviamente legato a fattori meteorologici parliamo dell'arte di creare modellare e scolpire con il ghiaccio ci sono diversi appuntamenti da domani al via il festival delle sculture di ghiaccio a Darby in Cina in Ucraina invece è presente una mostra di fiori di ghiaccio la redazione di Prometeo si è ispirata a un famoso film di Tim Burton del 1990 ed è Edoardo Mani di Forbi ci vediamo insieme di servizio di servizio di servizio di servizio di servizio in chiusura vi ricordo il nostro sito classmeteo.com per tutte le previsioni meteorologiche sul nostro sito sono presenti anche tutte le puntate di Prometeo dei giorni scorsi ovviamente anche quella di oggi scriveteci al nostro indirizzo mail meteo chiocciolaclasse.it noi vi risponderemo al più presto intanto vi auguro un buon fine settimana vi do appuntamento a lunedì sempre qui 17 e 10 non mancate intanto buona serata nuovamente con la programmazione di Class TV MSNBC è il verde il colore del ventunesimo secolo ecco una panoramica completa sui lavori più verdi in Italia ne parliamo lunedì con Marco Gisotti autore di Guida ai Green Jobs l'euro Grazie a tutti